Alessandra, puoi aiutarmi? Sì, cosa c'è? Vado in Inghilterra quest'estate e non so parlare l'inglese. Puoi darmi lezioni di inglese? Certamente, posso darti lezioni. Ma non sai neanche una parola di inglese? Sì, so parlare un po' di inglese. Ma mi preoccupa comunque. Quanto resterai in Inghilterra? Resto per due settimane. Ti consiglio di comprare un libro di inglese per viaggiare. Grazie mille. Puoi consigliarmi qualche libro? I libri della casa editrice? Vecchie scale sono ben fatti. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.